Continuiamo a parlare dell'accordo sottoscritto ieri sul patto territoriale con il sottosegretario rapporti istituzionali Ugo Parolo. Sottosegretario Parolo, lei ha detto che 8 miliardi, oltre 8 miliardi di euro potrebbero essere in circolazione se non ci fosse il patto di stabilità. Allora come sbloccare una parte di questi 8 miliardi e mezzo? Beh intanto è importante dire ai cittadini che questi 8 miliardi e mezzo sono soldi che sono nelle casse dei comuni, delle province e di regione Lombardia. Non sono debiti che le nostre amministrazioni dovrebbero fare, sono risorse disponibili che se non ci fosse il patto di stabilità potrebbero essere usate in questo momento di grande crisi che vede coinvolte famiglie e imprese per far ripartire l'economia. Il motore Lombardia è in grado di generare, di utilizzare subito questi 8 miliardi senza provocare ulteriore debito. Per concludere una sintesi dell'accordo di oggi, un plafond di oltre 212 milioni di euro suddiviso tra comuni e province e comuni circa 160 milioni, però destinate diverse cose, diverse funzioni, dal terremoto all'expo e altro. Sì, ci sono dei criteri di ripartizione che sono stabiliti in base a un accordo fatto con Anci Lombardia e con UPL. Tra l'altro il 50% di queste risorse va ai comuni sotto i 5 mila abitanti che fino all'anno scorso erano esclusi dal patto di stabilità. Questo ha drenato risorse per i comuni ovviamente che hanno più di 5 mila abitanti, è un po' una guerra tra poveri. Il Presidente Maroni ha dato la disponibilità a integrare e implementare le risorse proprio per aiutare i comuni sopra i 5 mila abitanti che sono stati penalizzati in questa fase e questa implementazione verrà in autunno. E poi ci sono dei criteri di premialità in base alla virtuosità dei comuni, eccetera. È un segnale importante che viene dato al sistema dell'autonomia e non è la soluzione del problema, perché evidentemente se si riescono a mettere in circolo 212 milioni di euro più altri 40-50 che reperiremo in autunno però ci sono 8 miliardi e mezzo di residui fermi, cioè di risorse che potrebbero essere utilizzate è evidente che stiamo parlando di una quota minimale, ma è il massimo sforzo che la Regione Lombardia può fare in questo momento.